Con l'accusa di omicidio colposo è finito in carcere Enrico Salluzzi, 35 anni, di Sassano. L'uomo è ritenuto responsabile della morte della 27enne rumena Carmen Elena Pavel, deceduta nella notte tra venerdì e sabato. La giovane madre era in sella alla sua bicicletta e stava raggiungendo il panificio di Candia, dove lavorava da diversi anni. Intorno alle 4.30, all'incrocio tra via Diez e via Croce, non molto lontano dalla stazione dei carabinieri di Sassano e dal panificio, e sopraggiunta l'auto con alla guida Enrico Salluzzi, che stava facendo rientro a casa dopo aver lasciato il locale notturno di Sala Consilina, dove lavora come barista. La macchina ha travolto la bici, che con la donna in sella è finita violentamente contro l'insegna posizionata all'incrocio. Sarebbe morta sul colpo. Un volo mortale che si sarebbe consumato sotto gli occhi dell'automobilista omicida. Quest'ultimo si professa innocente, ma ad incastrallo ci sono le immagini riprese da telecamere di privati e dell'impianto di videosorveglianza del comune. Le immagini acquisite dai carabinieri del capitano Corda mostrano chiaramente la dinamica dell'incidente e cosa è accaduto dopo il sinistro. Salluzzi, dopo aver scaraventato la donna contro la segnaletica, prima si è allontanato, poi è tornato sul posto per verificare cosa era successo. Pare che sia stato lui ad allertare i soccorsi. I carabinieri hanno subito capito cosa è accaduto. Sulla macchina c'erano i segni dell'impatto con la bici. Il barista è stato sottoposto agli accertamenti biologici e risultato ubriaco e drogato. Secondo quanto venuto fuori dalle analisi, aveva fatto uso eccessivo di alcol, cocaina e cannabinoidi. La patente di guida gli è stata ritirata e in carcere in attesa di essere tradotto in regime di arresti domiciliari. L'esame esterno sul corpo della vittima è stato sufficiente per capire la dinamica del sinistro e le ragioni del decesso della rumena. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali. La donna lascia il marito e un figlio di 10 anni con cui viveva a Sassano. Il sindaco Tommaso Pellegrino ha deciso di indire il lutto cittadino. Enrico Salluzzi da un po' di tempo si era lasciato con la moglie dalla quale ha avuto un figlio e pare che era a sua abitudine fare uso di alcol. Un episodio, quello che si è consumato all'alba di sabato, che, inutile dire, ha sconvolto la comunità sassanese che ancora non ha smaltito il dolore per la scomparsa dei quattro giovani uccisi dall'auto di Gianni Pacello mentre erano seduti davanti a un bar.